Un curioso, un entusiasta, cerco di non arrendermi mai nelle cose, che è un po' lo spirito dell'eroica. Lavoro come giornalista nel ciclismo da più di vent'anni. Io nella bicicletta cerco di trovare delle storie e la storia c'è anche nell'ingegnere che ha progettato un componente, un telaio, una soluzione tecnica che sia da raccontare. Mi piace il silenzio, ti permette di guardare dentro te stesso e di tirare fuori il meglio e di migliorare anche. Poi c'è la passione per il mezzo meccanico, che è quello che ha preso anche molto me e che per fortuna è diventato il mio lavoro. Come dicevo il mio vecchio direttore sportivo, non devi dire che ti sei appassionato ma che disgraziatamente ti ha preso una malattia. Ecco, io toglierei il disgraziatamente, però è una bella malattia. Ero ragazzino e pensare di arrivare a comprare un componente campagnolo era un traguardo da raggiungere. Il primo componente che comprai fu un reggisella, semplicemente perché sulla mia bicicletta avevo messo una sella più moderna e questo reggisella campagnolo aveva un fascino anche per quella scritta in corsivo. A me sembrava vecchia, quasi storica appunto, no? E invece poi era modernissima come il componente che comprai. Penso sia un po' come la Ferrari per le automobili, no? La bicicletta porta storia ma anche cultura però. In fondo anche l'eroica è questo. È il bello di fermarsi e vedere dei bei paesaggi. Quando mi fermo a fotografare trovo dei ciclisti, dell'eroica, che si fermano a loro volta a fare foto. Si mettono seduti per terra quando è l'alba perché è il momento in cui magari sono vicino a Siena c'è questo panorama fantastico e si fermano lì a goderselo, non importandosi poi del tempo che perdono eventualmente. Fotografare un evento come questo è uno stupore. Io la prima volta che sono venuto all'eroica mi sono emozionato tantissimo perché ho visto a colori e in movimento quelle fotografie in bianco e nero che ero abituato a vedere sui libri di storia del ciclismo. Mi viene in mente l'immagine di un ciclista in salita preso di fronte con un bello sfondo dietro perché si vede la fatica, si vede la bellezza della bicicletta, si vede il paesaggio e quindi anche la storia. L'anno scorso quando ero sceso dalla macchina per fare delle foto e mi è passato davanti Eric Zabel. Io gli ho fatto subito al volo delle foto, si è voltato e questa foto di lui che mi guarda voltandosi è diventata la copertina poi di una rivista, Biciclette d'Epoca, che è uscita subito dopo raccontando l'eroica. è una foto molto bella secondo me.